Cosa ci aspettiamo? L'applicazione del buonsenso. Dal 15 aprile ad oggi, per fortuna, si sono liberati più di mille letti in terapia intensiva. Ormai a oggi sono rimaste solo quattro regioni italiane con un tasso di occupazione intorno al 30%. La peggiore, ahimè, è la toscana. E quindi mando un abbraccio agli amici toscani. Però io non dico a metà maggio. Oggi siamo ai primi di maggio, ma anche entro il 10 di maggio. Se i numeri continueranno, ormai sarà un mese a essere positivi, aumentano i guariti, aumentano i dimessi, aumentano i vaccinati, diminuiscono i contagiati, diminuiscono i ricoverati. Non la Lega si aspetta le riaperture. L'Italia merita riaperture al chiuso, all'aperto, di giorno e di notte con l'eliminazione del coprifuoco. Questo non perché c'è un ordine del giorno, un impegno politico. Se i numeri continueranno a essere positivi e se gli italiani continueranno a usare buonsenso, ovviamente, io penso che il diritto al lavoro, alla vita e alla libertà a maggio sia fondamentale. Quindi cosa mi aspetto? Che la gente possa tornare a lavorare tutta, in palestra, in piscina, al bar, al ristorante, a Luna Park, ai parchi tematici, nei centri estetici, ovunque, senza limiti di orario. Perché in queste condizioni, anche di meteo, il coprifuoco è un danno alla salute. Per più ore la gente è libera di uscire, lavorare, comprare, passeggiare e respirare, meno possibilità ci sono di assembramenti. Quindi il coprifuoco rischia di essere un danno invece di un vantaggio. Quindi cosa ci aspettiamo? Che il Presidente Draghi e il Consiglio dei Ministri applichino la norma del buonsenso.